Ben trovati, in questo breve tutorial di Oggi lo provo io per voi vi vado a spiegare la lavorazione del punto base tunisino. In rete ci sono già altri tutorial, pochi in italiano, ed io faccio questo piccolo tutorial per le ragazze del mio gruppo. Questo è il risultato della lavorazione del punto, qui abbiamo il dritto del lavoro e questo è il rovescio. È un punto molto semplice che viene lavorato sulla barretta verticale che si forma sul davanti, non è un punto reversibile in quanto, come vi ho appena fatto vedere, ha un dritto e un rovescio e il rovescio assomiglia molto al punto legaccio fatto con i ferri. Per la tecnica tunesina ci sono i relativi uncinetti. Io ne ho uno lungo a doppia punta che viene usato per le lavorazioni circolari, ma in commercio ne trovate altri ad una punta sola e che alla fine hanno un cappuccio per non far sfilare le maglie o addirittura con l'accessorio di cavetti che possono essere avvitati alla estremità dell'uncinetto stesso. Per i piccoli lavori si può utilizzare benissimo l'uncinetto normale, cosa che io farò in questo breve tutorial. Il consiglio è quello di usare un uncinetto di un numero superiore a quello indicato per la lavorazione del filato. Questo che vi vado a spiegare adesso è il punto base o tunisian simple stitch. Questo è il simbolo che lo rappresenta, una barretta verticale. Queste sono le abbreviazioni, punto base in italiano o in inglese tunisian simple stitch. Come vi dicevo alcuni uncinetti hanno dei cappucci che vengono inseriti nella parte retrostante per non far sfilare le maglie. Io non avendone a disposizione me ne sono creata con dei tappi di sughero. Ne ho preso un pezzettino, ho ricavato un buco e vedete che lo vado ad infilare nella parte retrostante del mio uncinetto. Andiamo ad avviare la catenella di base. Vi ricordo che il punto si lavora su due righe, una di andata per il carico dei punti e una di ritorno per lo scarico dei punti. Quindi ogni riga è formata da una di andata ed una di ritorno. Primo giro, secondo giro, terzo giro e così via. Andiamo ad avviare la catenella come per la lavorazione dell'uncinetto classico. Facciamo il cappietto d'avvio e avviamo un tot di catenelle. durante la lavorazione non tirate troppo il filo ma cercate di tenere una tensione abbastanza morbida altrimenti non riuscirete ad entrare nelle barrette laterali dei punti che si vengono a formare. Fatta la nostra catenella di avvio dobbiamo andare ad iniziare la riga di andata per il carico dei punti e iniziamo entrando nella seconda catenella a partire dall'uncinetto. Questa che abbiamo in sospeso sull'uncinetto non si conta, questa è la prima, entriamo nella seconda quindi entro e vado a caricare il primo punto lasciandolo in sospeso sull'uncinetto. Entro nella catenella successiva e carico il punto e faccio questa operazione per tutte le catenelle che ho avviato entrando in ogni singola catenella ed estraendo un punto lasciandolo in sospeso sull'uncinetto. vado a caricare l'ultimo punto entrando nell'ultima catenella vedete quando vi dicevo di non tirare troppo altrimenti abbiamo difficoltà nell'entrare quindi vado a mettere sull'uncinetto l'ultimo punto ecco qua e partiamo con la riga di ritorno per andare a chiudere questo primo giro. Nella riga di ritorno il primo punto viene lavorato singolarmente quindi carico il filo ed estraggo da una sola asolina. Da adesso in poi le asoline che abbiamo in sospeso sull'uncinetto vengono chiuse due alla volta quindi carico il filo e vado a chiudere due asoline. Carico il filo, chiudo due e continuo fino ad esaurire tutti i punti in sospeso che ho sull'uncinetto chiudendo due asoline. Una volta che abbiamo terminato di chiudere tutti i punti nella riga di ritorno vedete che si è venuta a formare questa barretta verticale ed è proprio in questa in cui andremo ad entrare con l'uncinetto per lavorare tutti i giri successivi. Partiamo con il secondo giro nella riga di andata, lavoriamo una catenella, saltiamo la prima barretta che è quella che va a comporre la catenella finale ed entriamo nella barretta successiva con l'uncinetto in modo trasversale. Carichiamo il filo, lo estraiamo e lo lasciamo in sospeso sull'uncinetto. Entriamo nella barretta successiva e andiamo a caricare il punto successivo e facciamo questa operazione fino al termine della riga. Al termine della riga dopo la penultima barretta vi faccio vedere come entrare nell'ultima perché vanno prese tutte e due le asoline di fine riga in questo caso. Arrivati al termine della riga di andata del secondo giro entriamo nell'ultima barretta che abbiamo a disposizione ed estraiamo il nostro punto lasciandolo in sospeso. Vedete che adesso dobbiamo lavorare l'ultima barretta e lo facciamo entrando e nella asolina frontale e in quella posteriore del punto stesso. Vedete dove dobbiamo avere tutte e due le catenelle sopra l'uncinetto e andiamo ad estrarre l'ultimo punto. Partiamo con la riga di ritorno del secondo giro sempre lavorando singolarmente il primo punto e poi continuiamo chiudendo due punti alla volta fino al termine della riga di ritorno del secondo giro. Il lavoro tenderà ad arrotolarsi un pochino ma non vi preoccupate è proprio una caratteristica di questo punto. Ecco perché vi dicevo così come ho potuto constatare girando in rete di lavorarlo con un uncinetto di un numero più grande e vedrete che il vostro lavoro mano mano che proseguirete tenderà a distendersi. Arrivati al termine della riga di ritorno del secondo giro, la lavorazione dei giri successivi è molto semplice perché non dovete fare altro che ripetere quello che abbiamo fatto poc'anzi ossia entrare nelle barrette verticali ed estrarre il vostro punto da tenere in sospeso sull'uncinetto. Lavoro la prima catenella d'inizio riga, entro nella seconda barretta perché la prima è la catenella di chiusura, entro nella seconda barretta e vado ad estrarre il filo, entro in quella successiva ed estraggo il punto e continuo con questa operazione fino a terminare la riga. solo l'ultimo punto va lavorato entrando e nella catenella anteriore e nella catenella posteriore del punto sottostante. vedete bisogna entrare in questo modo prendendo la prima catenella che è sul davanti e anche la catenella che è nella parte posteriore del punto. io continuo arrivo a fine riga e vi faccio vedere come lavorare l'ultimo punto mi sono portata un pochettino avanti per il lavoro per farvi vedere ed avere ben ben chiaro dove puntare l'uncinetto per andare ad estrarre l'ultimo punto. sono quasi alla fine del giro vedete entro nell'ultima barretta che ho a disposizione è ben visibile ed estraggo il filo da lasciare in sospeso sull'uncinetto. vi metto frontale la parte finale della riga e vedete che abbiamo una sorta di catenelle formata da due asoline una anteriore e una posteriore ed è proprio in queste due che dobbiamo entrare per andare a pescare l'ultimo filo quindi se vi è più comodo mettete il lavoro fronte a voi entrate e nella asolina che abbiamo sul davanti vedete e nella asolina che abbiamo questa è quella sul davanti questa è l'altra che va a chiudere la catenella sul dietro vedete che per l'ultimo punto dobbiamo entrare in queste due asonile di fine riga carico il filo e lo vado ad estrarre e ripartiamo con la chiusura del giro di ritorno per andare a scaricare i punti il primo lo scarichiamo singolarmente e poi due alla volta fino a terminare tutti i punti che abbiamo sull'uncinetto stesso io credo che sia un punto molto semplice da lavorare basta fare un poco di esercizio e vedrete che vi sarà facile la sua esecuzione io spero che anche questa volta il video sia stato di vostro gradimento che le spiegazioni siano state comprensibili e vi aspetto per i prossimi tutorial intanto se vi fa piacere iscrivetevi al canale lasciatemi un like e condividete io io Grazie a tutti